La festa del libro e della lettura di Ostia è una delle icone culturali del litorale romano. Da 13 anni incentiva la lettura e la circolazione dei libri in nome della solidarietà. La festa del libro e della lettura di Ostia si tiene normalmente tre volte l'anno. È organizzata dall'Associazione Culturale Clemente Riva, il cui presidente Gianni Maritati. L'abbiamo svolta finora sempre presso il Salone Multimediale della Chiesa di Santa Monica di Ostia. Ovviamente durante questi due giorni mettiamo tantissimi libri in esposizione su dei tavoli in offerta libera. Il ricavato va in beneficenza. Valorizziamo le persone che scrivono, le persone che sono degli artisti, dei pittori, degli scultori. E noi li sosteniamo presentandoli. L'ultima volta, l'ultima edizione, la 33esima edizione della festa del libro, abbiamo presentato 40 scrittori. Nel frattempo le persone che sono venute ad ascoltare hanno preso i nostri libri usati che mettiamo a disposizione del pubblico e il ricavato va in beneficenza perché il nostro motto è cultura e solidarietà. Ma un grave problema affligge l'evento. C'è bisogno dell'aiuto di chiunque ne abbia facoltà. Attualmente la festa della lettura di Ostia ha bisogno assolutamente di una sede perché qualche mese fa un violento lumifragio si è abbattuto su Ostia. Ha allagato il nostro magazzino di libri usati che abbiamo ancora presso la parrocchia di Santa Monica. Abbiamo dovuto buttare il 60-70% dei nostri libri. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di una sede possibilmente a livello di strada asciutta, quindi aliena dall'umidità, da qualunque pericolo di questo tipo. Abbiamo bisogno di una sede soprattutto per farne un centro di incontro e di promozione culturale perché vogliamo continuare le nostre iniziative che sono appunto promozione culturale ma anche tanta solidarietà sociale.